Abbiamo vinto Abbiamo vinto La carta di Dio Testa rossa Preferiscono vivere in zone desolate Ok Vabbè, una carta Candela E questa è per Societi Sfruttiamole, li abbiamo Ok, ancora non ne abbiamo a sufficienza Vediamo un po' come si muove questa Testa calda Testa calda, testa rossa Sarebbero una sorta di indiani Stato per la velocità Pezzando la statua Ispiri i tuoi seguaci Tutti i seguaci Nel raggio Si muoveranno più velocemente Ok Quindi fammi capire una cosa Ah qui si può combattere ulteriormente Beh interessante dai No per ora Non ho voglia di combattere Non ho voglia di combattere Voglio di raccogliere un po' di karma Che mi torna utile Eh una canzoncina Facciamosi Per la statua Eh cavolo Ne servono 5000 Qui ha costruito la sua piccola Barracca Il nostro amico Quindi le lande desolate Eh da capire come debbano essere gestiti Quest'altro tipo di Di popolazioni Qua lasciamo largo Per questo Questo totem Vediamo insomma Come dovrebbe Funzionare per la storia Qui abbiamo detto che c'era un lupo Per guadagnare ulteriore Dovremmo Servono 5000 Uscite e andate a lavorare No qui però Serve un po' di spazio per scendere Allora 19 minuti Devo capire come funzionano quelli Mi interessa lo stuzzico Cos'è? È morto Mi ha fatto morire Porca miseria Allora Qui c'è tanto 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 Ma qua Li devo rompere Sti cavoli di cose Dai Ah ne manca uno Eh vabbè Allora tanto Vole aspettare Così vediamo Mi libera Ulteriore Lambda Ulteriore Lambda Desolata E dai per uno Addirittura Tra 20 minuti È qui Tra due minuti Tra quattro minuti 13 minuti Qua sono già tutte piene Ah a proposito Queste però sono uguale a queste Queste sono quelle di legno Queste invece Ah sono uguali Ecco qua Abbiamo raggiunto i 250 followers Vediamo la nuova carta Ok 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 Vediamo se questo Lo abbiamo anche No Ne abbiamo solo uno Vabbè Quindi 250 Come mai non ci ha fatto aumentare La La lambda Vediamo il libro Qua potrei costruire 7 Forse questo vuol dire Usate Usate Per usare questi ok vivere in posti isolati ok beh è qui boh beh sapete cosa vi dico? che per ora ci fermiamo qui visto che abbiamo raggiunto comunque un ulteriore obiettivo le 2.50 e ci vediamo al prossimo video un saluto a tutti voi da Mr. Poop ciao a tutti vi saluto